Buongiorno innanzitutto e grazie dell'invito a raccontare un po' di cose che facciamo. Un piccolo veramente di un minuto preambolo agli interessantissimi argomenti che 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 mi hanno preceduto. Gli impianti sportivi hanno una una loro peculiarità che li rende leggermente diversi da tutti gli altri edifici nel senso devono rispondere a tutte le norme di qualunque edificio cioè banalmente ho una struttura di cemento armato devo essere conforme alla normativa di gente o un involucro edilizio deve essere conforme alla legge 10 e poi all'eneficio nzeb e a tutti se è pubblico la maggior parte degli impianti sportivi o sono pubblici o sono concessioni e pertanto sono comunque edifici pubblici e devono rispondere i cam tutto bello spesso ci si dimentica che gli impianti sportivi hanno un requisito requisito prestazionale di chi ci deve poi giocare correre saltare nuotare fate voi quello che vi piace che spesso fa pugni con buona parte delle normative vigenti perché banalmente io faccio un edificio nzeb quello che vedremo fra poco è un palazzo del ghiaccio il chiller del palazzo del ghiaccio assorbe da solo 294 kilowatt è un po' dura che io lo faccia rientrare un edificio nzeb se no dovrei fare un parco fotovoltaico grande come tutta la città di Varese allora l'artificio è tutto l'edificio nzeb l'altro è una produzione industriale e che quindi non ha che vedere cioè bisogna essere ecco quello che voglio dirvi io bisogna essere molto elastici quando si parla di impianti sportivi anche perché insomma se io progetto un ufficio presumibilmente ho delle persone che vi entrano più o meno civilmente si siedono lavorano chiacchierano parlano mangiano discutono ma se ho un impianto sportivo per sua stessa vocazione ho delle persone che corrono che saltano degli spettatori che sfogano i loro più bassi istinti dalla tribuna e io devo stare attaccato a tutte queste cose qui no cioè devo cercare di far far stare insieme tutto e spesso queste cose collidono con le norme vi faccio un esempio pratico secondo il decreto ministeriale 18 marzo 96 sia pur modificato nel 2006 e ben vengue sarebbe ora la modifica di cui aveva parlato l'architetto Ducci l' integrazione io dovrei avere delle barriere alte due metri e venti negli stadi che separano il pubblico dal dal campo dovrei avere nei palazzetti al chiuso delle barriere fisse da un metro e dieci allora fanno la la scia antincendio arriva il solerte come si chiama funzionario che deve verificare tutto quanto mi dice io voglio la barriera da un metro e dieci nel frattempo però il mio committente comune che a sua volta ha avuto il la squadra sportiva che diceva io le barriere non le voglio perché quando vado a vedere le partite di serie A le barriere non ci sono e allora perché io in prima divisione in promozione devo mettere delle barriere da un metro e dieci dove la gente va a sbattere contro che non servono assolutamente a niente perché chiunque anch'io che ho 60 anni se voglio una barriera da un metro e dieci la scavalco ci sono tutta una serie di incongruenze in tutto questo che rendono difficile tanto il lavoro del progettista perché si deve districare in mezzo a questo il lavoro del validatore perché il validatore in fin dei conti è un notaio cioè lui prende la norma la guarda guarda il progetto e dice la norma è rispettata la norma non è rispettata non può andare fuori da quel seminato lì perché lui non può come ha giustamente detto Alessandro fare considerazioni sul progetto il progetto non è a far del validatore il validatore deve vedersi le due cose matchano tra di loro ma spesso non matchano perché perché la normativa è quattro ere glaciali fa rispetto a quello che è un impianto sportivo di adesso quando poi Roberto vi parlerà di protezioni il tema la devo fare alta un metro e dieci la devo fare alta due metri e venti e quella roba lì non finisce mai perché perché se noi andiamo a guardare il best practice di tutti gli stadi le si tende a fare sempre meno separazioni ieri sera abbiamo tutti fortunatamente guardato la partita se noi guardiamo lo stadio di Wembley di separazione ce ne sono tant'è che a un certo punto un cretino è entrato in campo negli stadi italiani dobbiamo chiudere la gente dentro a degli acquari diventano tutti dei pesci poi magari Roberto è contento perché gli vende un sacco di vetro però sia sempre lì poi ma come a San Siro non ci sono separazioni io nel campo dove gioca la squadra di promozione in Brianza devo tirar su una barriera da due metri e venti è un po' questo adesso scusate la divagazione però siccome erano tutti dei temi interessanti che sono stati che sono stati affrontati prima e verranno affrontati dopo mi sembrava anche carino vedere un po' una parte da progettista cioè da uno che purtroppo anzi no per fortuna tutti i giorni progetta i più disparati impianti sportivi e fa a pugni tutti i giorni con tutta questa con tutta questa situazione allora io adesso condividerei lo schermo eccoci qua bene e vi inizierei a far vedere perso chiaramente un pezzo eccoci qua eccolo qui vi faccio vedere un filmato che introduce un po' il nostro discorso che andremo a fare oggi cioè il progetto del rifacimento del palazzo del ghiaccio di Varese eccoci qua ve lo faccio vi faccio andare il filmato e poi incominciamo incominciamo a parlarne a parlarne un po' il tema qui era di un palazzo del ghiaccio molto molto usato e molto molto anche sentito come impianto fondamentale della città dai cittadini e degli abitanti di Varese che non era più in grado di assolvere il suo compito perché vecchio perché la manutenzione nel tempo era stata quella che era stata e l'impianto era chiuso perché era stato dichiarato non più agibile e quindi il nostro progetto che poi è un partenariato pubblico privato prevede il completo rifacimento e andremo a vedere anche quanto completo dell'impianto in tutte le sue in tutte le sue parti con la creazione di nuovi spazi anche di nuove attività e con sostanzialmente la diciamo la riconsegna agli abitanti di varese di un impianto completamente completamente nuovo ed efficiente e anche dal punto di vista energetico adeguato a quelli che sono gli standard gli standard attuali il tema era 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 difficile nel senso che l'impianto era in condizioni complicate la manutenzione era stato costruito giustamente negli anni 80 con quelle che erano le le caratteristiche le aspettative gli standard di quell'epoca e poi nel tempo come spesso accade la manutenzione la faccio io la manutenzione la fai tu no la fa Pippo no la fa Pluto alla fine la manutenzione non l'aveva fatta nessuno e l'impianto aveva dei problemi poi andremo anche a vedere quali i consistenti si è optato per una ristrutturazione integrale in cui l'impianto è stato integralmente demolito tranne pochissime parti che sono state mantenute e viene integralmente rifatto questo è quello che poi alla fine andremo a a realizzare e che e che tutti quanti e che tutti quanti vedremo poi effettivamente in opera andiamo eccoci qua allora ok perfetto non so come si fa a togliere così credo ecco ho tolto anche le nostre facce così viene più chiaro il tutto allora non so perché partiva dal fondo però ci sarà un motivo il computer ha sempre ragione lui allora come dicevamo si tratta di un partenariato pubblico privato presentato da una società ai vivi impianti assieme a progetto nuoto e prevede sostanzialmente rifacimento integrale con lo strumento del partenariato pubblico privato quindi si tratta a tutti gli effetti di un project financing che ha un valore compressivo di mi sembra quasi 13 milioni quasi 13 milioni di euro imposte comprese questo è il vecchio impianto cioè quello che noi abbiamo trovato nel momento in cui ci siamo ci siamo recati a fare il primo sopralluogo quindi una pista del ghiaccio e una piscina primo prima considerazione probabilmente negli anni 80 si poteva pensare di fare una piscina alta 14 metri nel 2011 o 12 quando inizieremo a usarlo dal punto di vista sia del dispendio energetico che del costo di gestione è una roba che non è assolutamente pensabile in più la copertura di lamellare non era stata adeguatamente trattata all'epoca non si faceva per i problemi di diciamo di attacco da parte dell'ambiente clorino e quelle che voi vedete verdastre qui erano delle reti che erano state applicate dal comune per evitare che pezzi di legno piombassero cascassero in piscina perché stava staccandosi tutto e poi vi farò vedere quelle che erano le condizioni delle travi quando poi le abbiamo effettivamente smontate. Una di queste una di questi archi si era completamente marcito tutta la parte incassata all'incastro con il plinto ed era stato poi rinforzato ed era monitorato addirittura costantemente con dei sensori al fine che non che non vi fossero via nel fabbricato sono state fatte una serie di deroghe fino a che alla fine il comune ha detto ok basta non facciamo più deroghe non possiamo più prenderci la responsabilità di utilizzare un impianto non agibile sostanzialmente e l'impianto è stato chiuso. Aspettate perché qui non capisco perché va avanti non capisco perché mi salta la presentazione aspettate un attimo vediamo di capirlo o comunque il bello della diretta no? Non si capisce che del diavolo sia successo ma se vuoi puoi provare a stopparla e a rilanciarla. Forse sì forse sì proviamo così no faccio così che faccio prima ok allora questa è lo stato di fatto di quello che noi abbiamo preso in in considerazione quindi abbiamo detto edificio parcheggio destinato e una zona verde una zona impianti è una zona è una zona verde piscina con due vasche degli spogliatoi veramente minuscoli non conforme alla normativa CONI di cui parlavamo prima zona del ghiaccio spogliatoi scusa questa è la zona noleggio pattini spogliatoi due grandi spogliatoi per l'ok e altri due spogliatoi per l'artistico ricavati sotto la tribuna la tribuna sul lato corto quindi questo era sostanzialmente un bar diviso perché potesse avere affaccio tanto sull'acqua quanto sul ghiaccio una zona una sala funzionale e un alloggio del custode che oramai non è più contemplato da nessun gestore di nessun genere questi sono gli spogliatoi di cosa non è prima il piano interrato una palestrina degli altri spogliatoi per gli addetti e vari locali tecnici questa era la parte dei compressori questa è la parte della filtrazione delle piscine che era un'unica filtrazione per tutte e due le vasche queste sono le cabine di trasformazione questa è la parte centrale termica chiaramente questo tipo di progetti hanno bisogno di essere fatti con il gestore cioè il gestore è un progettista né più né meno di quanto possa esserlo io perché lui deve sapere esattamente cosa vuole fare affinché sia garantita poi la la redditività e quindi l'impianto possa ripagarsi nell'arco dei in questo caso 36 anni di concessione e quindi le scelte vengono fatte le scelte su che funzioni mettere vengono fatte assieme al gestore assieme al concessionario cioè il concessionario ti dice io ho esigenza di questo 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 e quest'altro tu compatibilmente evidentemente con quelle che sono le normative dello Stato le normative del CONI le normative delle federazioni sportive nazionali in questo caso occhi e nuoto incompatibilmente con tutto quanto possiamo immaginare e abbiamo elencato prima devi cercare di mettere dentro tutti gli ingredienti affinché la minestra poi alla fine risulti gustosa e soprattutto efficiente quali sono le nostre i nostri obiettivi di base dal punto di vista normativo li vedete qui a fare un edificio a energia quasi zero come prevede la normativa dal 2019 per tutti gli edifici pubblici da quest'anno per qualunque edificio rispettare i cam quindi scegliere fin dal progetto i materiali adeguati ai criteri ambientali minimi e quindi avere poi sostanzialmente sempre per stare all'interno di queste normative fino al 60 per cento dei consumi provenienti da fonti rinnovabili quindi qui poi vedete tutta la parte di impianti parti di parco fotovoltaico assieme a queste pensiline che è stato previsto qui sono state previste delle pompe di calore che vanno a evitare l'uso di combustibili fossili insomma tutta una serie di accorgimenti che fanno sì che l'edificio sia un edificio del 2021 e non più del 1980 poi il gestore ha detto io ho bisogno una palestra dove la facciamo la palestra ho una piscina troppo alta consumo troppo mi costa troppo e non riesco a essere avere dei 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 ritorni che mi consentano di pagare il mutuo benissimo soppalchiamo la piscina lasciamo quella che è il minimo previsto dalla normativa per un impianto d'esercizio come questa piscina e al piano sopra realizziamo una nuova palestra in questo periodo tutti sempre richieste del gestore in questo periodo tutti vogliono giocare a padel troviamo lo spazio per fare dei campi benissimo sul tetto del nuovo corpo piscina perché abbiamo aggiunto un corpo piscina da 605 metri quadrati abbiamo piazzato due campi di padel perché abbiamo fatto un ampliamento piscina perché gli spogliatoi che c'erano non erano accettabili quindi abbiamo fatto una nuova dei nuovi spogliatoi che vanno a coprire la vecchia vasca d'apprendimento e una nuova vasca d'apprendimento più grande e più adatta a quelle che sono le esigenze del gestore specifico di questa piscina anche qui piccola digressione ogni gestore ha le sue come posso dire alle sue esigenze alle sue idee al suo tutto pertanto bisogna stare con il gestore e se lui vuole una piscina di un certo tipo con una certa altezza la progetti come la vuole lui poi il tuo prossimo cliente altro gestore di piscina ti chiederà una piscina di tutt'altra altezza di tutt'altra forma di tutt'altra foggia e tu gliela progetterai lo stesso perché il suo modello di gestione è diverso chiaramente un altro argomento superamento barriere architettoniche questo impianto era assolutamente inaccessibile a qualunque tipo di diversamente abile noi l'abbiamo reso accessibile in tutte le sue parti ai diversamente abili abbiamo fatto dei nuovi posti auto razionalizzando il parcheggio abbiamo fatto questa piscina nuova dando nuovi spogliatoi e soprattutto una gestione indipendente delle temperature dell'acqua tra le due vasche cosa che prima non era possibile adesso abbiamo due impianti di filtrazione due vasche di compenso separate pertanto io posso avere la piscina d'apprendimento faccio un esempio a ventinove gradi e la piscina nuoto a ventisette perché chi nuota magari non vuole l'acqua troppo calda perché dopo un po' gli da fastidio chi invece fa apprendimento o fa semplicemente relax in questa piscina vuole magari insomma o magari sono bambini piccoli per esempio magari uno due gradi dell'acqua in più gli fanno piacere e quindi abbiamo la possibilità anche di tenere separata se questa funziona abbiamo rifatto il bar abbiamo rinnovato le tribune abbiamo rinnovato e ampliato sia per numero che per come si dice che per dimensioni tutti gli spogliatoi cambiata completamente la pista e come si dice e le balaustre per adeguarle a quelle che sono le normative vigenti abbiamo messo le colonine di ricarica per l'auto elettriche come abbiamo detto prima pannelli fotovoltaici solari termici e pompe di calore e abbiamo tutta questa serie di funzioni all'interno all'interno del nostro edificio adesso chiaramente come vedete anche l'esterno è cambiato adesso vediamo se riesco a ingrandirvelo un po' abbiamo creato questi parcheggi che prima non c'erano tutta questa zona è delimitabile perché su richiesta siamo in grado di fare l'area di servizio annessa all'impianto di cui parlava prima l'architetto Ducci qualora ci fossero delle partite in cui il prefetto lo chiede sapete che negli impianti al chiuso questa è obbligatoria dai 4.000 posti in su ma dai 500 posti in poi bisogna essere in grado comunque di ricavarla qualora per una qualunque partita il prefetto lo chiedesse e quindi abbiamo previsto anche tutto questo abbiamo previsto nuove scale di deflusso che prima non c'erano tutte queste parti qui che vedete prima non esistevano e poi c'è chiaramente anche tutta la riconsiderazione dei parcheggi e di tutta la parte e di tutta la parte esterna torniamo al 100 per cento beh oggi non vuole saperne di funzionare questa roba benissimo andiamo a vedere cosa succede all'interno del nostro del nostro edificio ricordate il disegno che abbiamo visto prima la vasca è rimasta la stessa come posizione poi evidentemente verrà rifatta completamente verrà rifatto l'impianto di filtrazione verrà rifatto il liner di finitura rifatti i bordi sfioratori eccetera eccetera sono stati creati questi nuovi spogliatoi quindi dall'accesso da questo tornello che sono accessibili e diversamente abili e portano poi in vasca maschile femminile istruttori istruttori uno istruttore due primo soccorso e magazzino è stata creata una nuova vasca di apprendimento di dimensioni molto maggiori della vecchia che ricordate prima era in questa posizione e due altezze diverse di fondo a seconda del tipo di di attività che si vuole fare c'è un montascale in questa zona e altri due montascale in questa zona che consentono l'accesso per poi raggiungere un ascensore che porta a tutti i livelli del del palazzo e quindi qualunque tipo di disabilità motoria non è un ostacolo nella parte chiamiamola ghiaccio abbiamo ricavato dei nuovi spogliatoi dedicati espressamente allo slegiochi quindi allo hockey in carrozzella poi abbiamo ampli razionalizzato la zona del noleggio pattini per l'utilizzo libero ingresso cambio i pattini esco vado in vasca in vasca scusatemi in pista riesco e ne vado sempre da questi tornelli che controllano gli accessi sono stati rifatti completamente e resi conformi alla normativa della federazione hockey nazionali che recepisce la normativa internazionale più è stato aggiunto un terzo spogliatoio quindi l'occhi a questo punto ha cinque spogliatoi uno due tre quattro cinque sono stati rifatti completamente gli spogliatoi dell'artistico anche qui ci si accede utilizzando un servo scala qualora vi fosse necessità di utilizzarli per un ipotetico utilizzo per diversamente abili anche se ripeto diversamente abili hanno due spogliatoi a loro dedicati e quindi tutto quanto è stato portato a una razionalizzazione completa sia degli spazi che delle funzioni le tribune sono state sistemate sono state aggiunte le uscite di sicurezza vengono cambiati tutti quanti i seggiolini e fra l'altro qui la pur visibilità delle tribune esistenti non era verificata con la norma che è citata nel regolamento CONI il problema è che la norma citata nel regolamento CONI è stata abrogata ed è stata sostituita da un'altra per cui quando noi andiamo a progettare dobbiamo progettare come da con la norma nuova e quindi con quello che è chiamato il C value cioè il valore il valore dell'altezza della testa di quello davanti a noi che non che adesso è previsto 9 la norma CONI prevede 12 accettabile 10 capite che questo crea un sacco di problemi sulle sulle tribune noi qui abbiamo segnalato al CONI che le tribune erano già esistenti e che quindi se ne potrà fare un uso conforme a quello che era già esistente proprio per il discorso della validazione cui parlavamo prima il bar è stato reso unico senza il doppio affaccio proprio perché ormai non c'è più doppio affaccio visto che sopra la piscina ci sarà una palestra è stato reso accessibile da una nuova scala e da un ascensore che quindi lo rende accessibile vedete meglio qui ai diversamente abili e tutto quanto è tutti i servizi sono accessibili e diversamente al piano sopra ancora come abbiamo detto abbiamo soppalcato la piscina e abbiamo creato una palestra fitness con due sale corsi spogliatoi dedicati primo soccorso dedicato magazzini e quant'altro e due campi e due campi di padel al piano interrato è stata ricavata una palestra per il riscaldamento a secco delle delle ginnaste delle delle pattinatrici che sono anche delle ginnaste sostanzialmente una zona che viene poi adibita a magazzino a reato direttamente è una parte di filtrazione della vasca della vasca nuova e questi sono i come si dice sono i render del del di quello che poi sarà effettivamente l'aspetto una volta una volta terminato il lavoro una cosa abbastanza interessante a mio modo di vedere di questo di questo progetto è che sostanzialmente si è scelto una volta tanto non di tenere forzatamente in piedi delle cose che in piedi più non stavano ma si è accettato che la soluzione migliore fosse abbattere e ricostruire questo che può sembrare una cosa banale e come dire ma certo che è la cosa migliore in Italia non è così cioè in Italia spessissimo si come si dice si 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 privilegia il mantenimento del vecchio che non è necessariamente antico e non è necessariamente di pregio e non si riesce a ad avere una visione più 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 grande una visione più completa andiamo a vedere entriamo un po in cantiere perché chiaramente il cantiere adesso è in corso e vediamo cosa è questa roba che mi arriva vabbè continua a rire bello sempre della diretta sempre questo entriamo in cantiere questa è la demolizione completa di tutto con le pinze abbiamo raso al suolo praticamente tutto questa è la piscina che voi vedevate prima stata completamente liberata e queste sono le condizioni delle travi di ammellare all'interno erano completamente marce completamente completamente marce questa era la situazione che abbiamo trovato una volta poi smantellate e portate a terra per cui c'è anche un discorso banalmente non più tardi di sei mesi fa a Vipiteno è corrollato un palazzo del ghiaccio durante la notte meno male non c'era nessuno dentro però il tema della sicurezza il tema della verifica il tema della anche attenzione verso queste cose a mio modo di vedere è un tema cruciale cioè gli impianti quando iniziano a avere 30 40 anni 50 anni e devono essere seriamente controllati e quando non sono più in grado di garantire la sicurezza bisogna avere il coraggio o di fare interventi radicali o come io credo sia nella maggior parte dei casi meglio raderli al suolo e rifarli perché ripeto bisogna distinguere ciò che è vecchio da ciò che è antico e spesso in Italia questa cosa non viene fatta questa è una visione dall'interno mentre stavamo chiaramente demolendo tutto quanto adesso è diventata una pista di pattinaggio all'aperto questa è la demolizione di tutto il piano vasca che era completamente marcio avevano sfondellato tutti i solai e c'erano stati problemi di carbonatazione erano tutti i ferri i ferri esposti delle travi perché l'ambiente clorino che si trova poi al di sotto della vasca le infiltrazioni da sopra dove non si era impermeabilizzato il piano di vasca al piano vasca negli anni 80 avevano fatto sì che tutto questo solaio fosse completamente marcio adesso chiaramente lo vedete all'aperto perché stiamo facendo vedete qui di scavi a trincea delle fondazioni questa è la nuova rampa scale che è già stata realizzata da cui poi passiamo coi mezzi e qui noi abbiamo tutti gli scavi a trincea delle nuove fondazioni del solaio dove andrà poi la palestra a sovrapporsi alla piscina questa è la zona della vasca piccola di cui parlavamo prima sopra adesso qui metteremo un solaio e su questo verrà poi creato il nuovo spogliatoio questa è una visione dall'alto del palazzo del ghiaccio completamente smantellato la ricordate l'immagine prima è più o meno dal punto di vista dell'immagine che avevamo prima adesso non c'è più assolutamente nulla oggi sono arrivate le prime il trasporto eccezionale con le prime quattro arcate in lamellare nuove che da mercoledì incomincieremo a posizionare cominceremo a ricostruire tutta la parte sopra all'interno abbiamo liberato tutti gli spogliatoi e per poter poi procedere anche al ripristino delle armature dove necessario abbiamo smaltito tutta la parte del della vecchia balaustra per poi poter fare la la fondazione della nuova e qui sono immagini antecedenti non sono messe giuste dal punto di vista del della cronologia me ne scuso ma questi sono altre immagini di quando lo stavamo ancora demolendo quindi questa era un po' una gita all'interno all'interno del cantiere tolgo la condivisione eccoci allora io credo che gli spunti interessanti siano tanti nel senso si tratta di un impianto complesso molto grande anche molto diciamo che ha lasciato anche molta polemica avarese perché ma come facciamo l'impianto del dove abbiamo passato tutta la nostra gioventù lo demoliamo completamente eccetera eccetera se andate se digitate su google palaghiaccio varese vi vengono fuori un centinaio di articoli di più disparati disparati sull'argomento in realtà alla fine di tutto ci sarà un impianto efficiente dal punto di vista energetico efficiente dal punto di vista gestionale conforme a quelle che sono le normative del 2021 e non a quelle del 1980 con la possibilità di avere funzioni in più il fitness prima non c'era ora ci sarà il padel prima non c'era ora ci sarà tanti corsi in acqua che si possono fare adesso prima non si potevano fare non si potrà più giocare la palla nuoto amatoriale che si giocava prima perché abbiamo alzato il fondo della vasca per questioni gestionali evidentemente di risparmio il risparmio dell'acqua dell'energia ma era comunque una funzione che è stata spostata in altre piscine cittadine il tema è esattamente questo cioè abbiamo un patrimonio lo ha detto prima lo ha detto prima Fabio abbiamo un patrimonio impiantistico obsoleto ma a tutti i livelli banalmente che voglio dire come vi ho detto prima tutti avete visto lo stadio lo stadio il nuovo stadio di Wembley ieri sera la televisione siamo anche tutti contenti di averlo visto quello stadio lì è stato rifatto completamente nel 2007 radendo al suolo l'Empire Stadium con le sue torri gemelle che ne erano così il simbolo che era lo stadio costruito subito dopo la guerra per ospitare le Olimpiadi del 48 era anche un'icona secondo me molto di più del paraghiaccio di Varese e a Londra non hanno fatto una piega lo hanno completamente raso al suolo hanno fatto progettare a Norman Foster l'arco e a Populus tutto il resto dello stadio e abbiamo visto ieri uno stadio favoloso moderno e quant'altro in Italia non abbiamo niente di tutto questo ci sono progetti noi stiamo facendo lo stadio di Cagliari per esempio e che stiamo facendo il progetto definitivo in questi giorni diceva prima Alessandro c'è in corso il progetto del rifacimento integrale dello stadio di Bologna e quindi lo stadio di Cagliari è completamente nuovo lo stadio di Bologna è uno stadio realizzato in epoca fascista che ha anche una parte di tutela da parte della sovraintendenza per la torre e quant'altro quindi viene rifatto dovendo tener conto anche di queste cose e poco altro la Juventus ha raso al suolo il delle Alpi e ha fatto ha fatto il suo stadio da 40.000 posti che quindi non sono i 44.000 di cui parlava Ducci prima per poter fare la finale di Champions ma ne mancano 3.000 Udine ha rimesso a posto il suo Sassuolo ha preso il vecchio stadio Giglio e pian pianino lo sta rifacendo pezzo pezzo e ha un buono stadio e finita qua c'è tutto il resto degli impianti e quindi sto parlando di impianti di altissimo livello è un disastro gli altri ogni tanto un comune prende un finanziamento lo mette a posto ma non c'è onestamente un quadro unitario mentre i temi della sicurezza i temi del risparmio energetico cioè tutti i temi anche della razionalizzazione di questi impianti a nuove esigenze perché lo sport è cambiato quando era ragazzo io giocavi a pallone facevi atletica andavi a nuotare giocavi a basket giocavi a pallavolo qualcuno giocava a rugby fine delle fine delle trasmissioni chi faceva scherma la faceva negli scantinati chi faceva judo pure ed era finita la festa ora lo sport è tutt'altra cosa ci sono nuove esigenze tanti ragazzi se il campo non è non è bello la mamma li portano da un'altra parte cioè io ho più di un cliente che alla fine chiede al comune di rifare il campo in erba naturale in erba sintetica perché le mamme l'hanno minacciato che portano i bambini nella società limitrofa che hanno il campo in erba sintetica i bambini si sporcano di meno ma a me papà non è che adesso non è una questione di genere questione che il mondo è cambiato gli utenti sono cambiati le cose sono cambiate bisogna fare cose in un'altra maniera impianti vanno adeguati non possono essere più gli impianti energivori di 40 anni fa perché non abbiamo abbiamo un'altra coscienza e non abbiamo neanche i soldi per mantenerli diciamo che le due cose vanno di pari passo cioè tutti parlano solo della questione green ma la realtà è che tanti di questi impianti vengono abbandonati comunque non vengono più utilizzati perché costano troppo e che quindi banalmente una piscina di quelle dimensioni che abbiamo visto prima ha dei costi di gestione che non sono sostenibili in nessun modo con nessun tipo di neanche di contributo pubblico cioè si andrebbero a buttare via centinaia di migliaia di euro l'anno per riscaldare per riscaldare un volume che non ha senso e che non ha nessun tipo di ragione di ragione di essere ma anche il ghiaccio non crediate che il ghiaccio sia semplicemente acqua sotto zero gradi cioè il ghiaccio ha delle questioni di controllo dell'umidità relativa perché se io probabilmente faccio short trek della gente che va a 60 all'ora dentro un recinto da 60 da 60 per 30 e se il ghiaccio non è più che a posto questi si schiantano patinaggio artistico fra un filo e un altro di un salto cambia o che la patinatrice o il patinatore stiano in piedi o vadano in terra oppure cambia magari il punteggio e lì i punteggi sono veramente cioè se io prendo un filo male perché il ghiaccio non è come doveva essere prendo penalità e quindi vado a incidere sulla prestazione dell'atleta e quindi non è semplicemente acqua ghiacciata è acqua ghiacciata con certo criterio con delle serpentine che hanno determinate caratteristiche mi consentono anche di avere spessori e di temperatura del ghiaccio diversa perché l'acqua ghiaccia a zero gradi ma io posso avere anche meno sei meno sette e allora mi cambiano le caratteristiche del ghiaccio e se io non ho un controllo dell'umidità adeguato quel ghiacciolino lo controllerò mai e quindi ci sono tutta un'altra serie di fattori che vanno a incidere idem in piscina non basta riscaldare l'acqua io devo anche estrarre l'umidità che l'evaporazione di quest'acqua produce e quindi devo avere dei sistemi efficienti che però non siano attaccabili dal cloro perché il vapore acqua che estraggo è carico di cloro per cui se non ho macchine adeguate unità di trattamento aria adeguate all'ambiente clorino le butto via dopo un anno anche meno vedete sono tantissime le cose per cui all'interno della sicurezza e della progettazione di questi impianti ci sono una quantità di fattori infinita da andare a che poi ripeto adesso abbiamo 40 minuti per cui la chiudiamo qui altrimenti diciamo che diventiamo anche prolissi però il discorso è veramente complicato ed è veramente molto specializzato cioè gli impianti sportivi richiedono veramente un'enorme specializzazione richiedono veramente un'enorme anche conoscenza di quello che si sta facendo cioè non è uguale progettare una pista di hockey un palazzo dello sport una piscina una pista d'atletica le stesse piste d'atletica io ho fatto una pista a 1800 metri d'altezza Livigno ne ho fatta una a Milano ne ho fatta una a Bustarsizio ne ho fatta una a Gravedona cioè progettata non l'abbiamo ancora fatta ne farò una a Viareggio cioè tutte queste sono diverse l'una dall'altra è diversa la gomma che si usa è diverso il concetto che si usa perché perché sono messe in posti diversi è gomma messa all'aperto e quindi a seconda del clima io devo scegliere dei materiali diversi